I dipendenti di base di Ryanair in Germania incrociano le braccia per uno sciopero di 24 ore, cominciato alle 3 di stanotte. È ormai un lungo braccio di ferro tra i dipendenti e la compagnia Low-Cost che attraversa mezza Europa. Così i 150 dei 400 voli operati da e per la Germania sono stati cancellati. La compagnia aerea attacca affermando che lo sciopero sia ingiustificato e che i lavoratori abbiano dato troppo poco preavviso. La protesta è stata proclamata dal potente sindacato di categoria dei piloti e dal sindacato dei Verdi, che rivendicano miglioramenti retributivi e normative di impiego del personale navigante migliori. Le persone sono davvero furiose sul trattamento che stanno subendo e sono pronti a muoversi. Hanno tutti qualcosa da perdere, ma tutti credono fermamente che sia possibile fare qualcosa.